Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi siamo al nord delle cronache del vero, è il 3 marzo, logicamente. Siamo in prossimità delle 8 serali e vi voglio portare un tema che riguarda un po' a tutti noi, nel nostro angolo familiare. Sì, proprio il rapporto tra lui e lei o il rapporto di lui con i propri figli. Ok, questo vi voglio portare a far notare di come io, per le mie esperienze personali, logicamente è constato che un po' girando anche in città, in città, nelle varie situazioni, dove è noto che ci sono molto molto carenze affettive tra le persone che compongono una famiglia. Carenze affettive allarmenti, logicamente. Queste carenze affettive, logicamente, mi portano alla luce che magari poi è manifestata anche oggettivamente parlando. Invece no, magari c'è un piatto, un prepararsi il cibo, il farsi i doni, i regali, i oggetti, quant'altro. Però, di fondo, la carenza affettiva, fondamentalmente parlando, la noto nel canale comunicativo. Sì, sul piano verbale denoto che poi delle parole non vengono mai spese giornalmente, quotidianamente. come il pensare che comunque sia ci si sta dentro lo stesso tetto e che comunque sia lo so, ci amiamo. Sì, lo so che ci vogliamo bene. Sì, lo so sei mio padre. Sì, lo so che sei mia figlia. Questi lo so attraverso detti per altre persone, logicamente. o anche addirittura sfacciatamente dette tra di loro. Sì, lo so, lo so. Ma io mi sono posto una domanda, come lo so? Non si sa mai il giorno dopo se è uguale al giorno prima. Va sempre coltivato l'amore e l'affetto delle persone che compongono una famiglia. Va sempre coltivato, ricercato. E qual è il miglior modo? Quello del dialogo. E allora io mi incazzo in questo caso. Come mai avete capito nel mio canale? Che c'è la rabbia in questo. Siamo arrivati pure a parsimoniare le parole perché non possiamo spendere, perché non abbiamo la possibilità economica nemmeno a livello comunicativo di stare lì cinque minuti a colloquiare, a parlare calurosamente con la persona che ci condividiamo lo stesso letto o lo stesso tetto. Ma noi veramente, non ci meravigliamo se questa società è cinica. Perché è di riflesso a quello che è il nostro angolo familiare che non c'è ricercatezza delle due persone. Si pensa che con gli oggetti, pensando che oggi è inverno, si compra il giubbotto, si pensa che abbiamo, come posso dire, abbiamo occupato il nostro pensare in maniera affettuosa ai nostri compagni o ai nostri figli. No, non è così, ragazzi. E se c'è un errore, non va alimentato questo errore e focalizzato e centralizzato al massimo. No, bisogna cercarlo, comunque sì, di elaborarlo e di fare un attimino il punto della situazione. Sul chiedersi il perché. Anche questo è troppo sforzo, ragazzi. Chiedere il perché su una persona che avete deciso con cui costruirci una famiglia per 20-30 anni. Dopo non vi lamentate che c'è la crisi di coppia, che un matrimonio non dura nemmeno un giorno, che ormai è un fatto statistico che non esiste più matrimoni che durano, ma esistono coppie che si sfassano e che si costruiscono su altre persone. Allora vi voglio dire, qual è la filosofia che dovete abbracciare? Io non sono religioso, non vi dico di porgere la guancia a uno schiaffo che vi viene dato. Io vi dico, porgete la vostra mano avanti ai suoi occhi, in modo tale che cosa fate in questa maniera, se voi non lo capite? Chiedete alla mano della vostra persona che vi sta di fronte di fare un atteggiamento diverso, non quello di essere sbeffeggiati e che quindi voi siete clementi e siete gluti per le persone che accettate tutto, perché voi non odiate. No, chiedete che venga collaborazione, venga dato affetto. Se ciò non c'è, allora rispingerete, come faccio io con questa gran voce, di essere stufi e che quindi non c'è più niente da fare. Però questa è la filosofia da tenere. Non porgere la guancia, ma dire al proprio compagno, sono qui per porgimi la vostra mano. Questo è quello che dovete fare. Tutto qui ho pieno di luzzo e se tenete bene in mente, fatelo, verbalizzatelo ogni giorno, il vostro affetto e il vostro amore verso chi vi sta vicino tutti i giorni. Ciao ragazzi, siamo a Senigallia!